ben ritrovati oggi siamo a trani e più precisamente in una delle zone più servite precisamente in corso in briani a due passi dal centro e dal castello svevo vi presento una soluzione caratterizzata da una generosa metratura ottima per chi ha bisogno di condividere gli spazi familiari l'immobile è al quarto di una palazzina di cinque piani e sviluppa una metratura di circa 170 metri quadri interni e gode di un triplo affaccio che lo rende molto luminoso marcando la porta d'ingresso ed attraversando il disimpegno troviamo subito due comode stanze adibite in questo caso a studio e camera da letto proseguendo abbiamo un ampio bagno finestrato e subito dopo altre due camere da letto entrambe con uscita sul balcone infine troviamo una grande cucina abitabile anch'essa con balcone che si affaccia sulla piazza di viandria di recente riqualificata successivamente troviamo un salone doppio di quasi 40 metri quadri con doppio balcone che si affaccia su di andria completa l'immobile un secondo bagno che funge da lavanderia e ripostiglio veniteci a trovare o contattateci per non perdere questa fantastica opportunità ciao alla prossima